Il quorum è stato raggiunto, però dobbiamo ringraziare Melusconi è tutto suo esecutivo perché hanno creato il miglior spot pubblicitario, per di più gratuito, facendo delle dichiarazioni tipo non andiamo a votare e chiaramente il greggio che è alle sue dipendenze tutti hanno dichiarato non andiamo a votare, dal che se ne trae una veloce deduzione, se un esecutivo dichiara di non andare a votare lo fa nel suo interesse e basta, per cui per contrapposizione lui dice di non andare a votare e allora perché non si ha più l'interesse solo suo e dei suoi accordi per far prevalere l'interesse dell'Italia e degli italiani cosa facciamo? andiamo a votare, grazie Melusconi, uno spot del genere, non lo poteva inventare neppure, il più famoso dei creativi. grazie a tutti